Presente. Bertini. Presente. Ceschini. Presente. E Ceschini non la vedo. Alcune sere fa ho ascoltato il dibattito sull'ordine del giorno presentato dai gruppi di minoranza. Il sindaco Cartichini rispondeva alle posizioni espresse nei documenti della minoranza. L'unico della maggioranza che osava ribattere con una certa vivacità era Marco Flamini che diceva che la maggioranza era attiva, controllava, realizzava. Allora mi è venuta la voglia di ricordargli che la maggioranza di Cartichini di cui fa parte era assente e non risolveva i problemi che i cittadini chiedevano di risolvere. Porto l'esempio delle piastrelle disconnesse dei due nuovi marciapiedi lungo la provinciale da Portaseiano alla chiesa di Santa Croce. Per mesi i cittadini si sono inciampati su queste piastrelle disconnesse e solo dopo mesi di lamentele e di messaggi inviati in comune l'amministrazione Cartichini si è decisa a sistemare i due marciapiedi. Segno evidente che il sindaco, i suoi assessori e consiglieri non camminano per le strade di Corridonia. Grazie a tutti.